Ma perché c'è puzza di pesce? Boh, perché oggi disegniamo delle carpe Il corpo è semplicissimo, è una linea a due cerchietti Poi aggiungiamo coda e pin, altrimenti sembra un'anguilla morta Questo è un disegno intuitivo per tutti quanti Non lo lasciamo lì da sole, mettiamo anche Miss Carpa dall'altra parte Che sarà anche Miss, ma i baffi ce li mettiamo lo stesso Poi un po' d'acquarello nero, facciamo un grigetto E semplicemente ci mettiamo un po' di ombra Abbiate un attimo di pazienza, fate l'asciugare Scegliamo poi due colori, così un po' la babbo Un mezzo arancio per Mr. Carpa E un blu notte per Miss Carpa Che ieri ha tradito il marito e quindi si trova con la pina in due scarpe E leviamo quello scotch lì che fa schifo, lo odio Però tiene fermo il foglio Abbiamo finito ragazzi, i materiali sono in bio Ciao ciao